Attitudine metropolitana e cosmopolita, potenza dello sguardo e dell'immaginario, desiderio di un dialogo costante con i classici da Michelangelo a San Martino, personalissima estetica pop, tecnica sopraffina e sperimentale a un tempo. A 34 anni Jacopo Cardillo, in arte Iago, è uno scultore conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, tanto da tenere corsi nelle accademie americane come in quelle cinesi. Originario di Anagni, in provincia di Frosinone, l'artista un anno fa si è trasferito da Manhattan a Napoli dove è impegnato nella realizzazione di una pietà contemporanea, omaggio all'amore paterno, destinata alla chiesa degli artisti di Piazza del Popolo a Roma. Il mio lavoro mi trovo sempre ad essere ospite, io vado in un luogo, oggi lavoro qui perché qui posso realizzare questa cosa e così ho sempre fatto, mi sono spostato in tanti luoghi perché era il posto dove potevo fare quella determinata operazione. Iago ha iniziato a lavorare su un blocco di marmo di Carrara da sei tonnellate e lo ha fatto nella chiesa seicentesca di Santa Spreno e Crociferi, uno dei tanti gioielli, prima abbandonati, del Rione Sanità. Un laboratorio inconsueto ma non casuale. Il legame dello scultore con il quartiere è profondo, segnato dalla presenza di una delle sue opere dall'impatto più forte, Il figlio velato, nella vicina chiesa di San Severo fuori Remura. Una creazione in sofferto dialogo, acceso a distanza di quasi tre secoli, con il Cristo velato di Cappella San Severo che dista da qui poco più di un chilometro. Il rione Sanità, da oltre 15 anni, è attraversato da energie positive con una trentina di cooperative e associazioni che stanno rilanciando, attraverso la cultura e l'arte, il quartiere, prima la ribalta solo per conflitti tra clan di Camorra. Un luogo ricco di fermenti, insomma, in cui Iago si è immerso totalmente. Io mi sento coccolato, come in famiglia, sai, c'è la preoccupazione di tante signore che io mangio, che io sia in forze. Il quartiere è famiglia e questo è preziosissimo per me perché ti senti a casa e quando ti senti a casa sei molto più disinvolto nelle tue cose. Il valore di quello che faccio immancabilmente è il riflesso anche del valore che percepisco e che mi accompagna. Sono assorbito dal quartiere, quindi questo gioca anche favorevolmente il mio procedere. Sai, siamo sempre condizionati da quello che ci circonda, in tutte le cose che facciamo. Il rapporto dell'artista con Napoli è particolarmente stretto. Prima di Natale, la sua natività, in piazza del plebiscito, la scultura Lookdown, raffigurante un neonato nudo, incatenato al suolo, simbolo dell'indifferenza verso i più deboli e invito a non distogliere lo sguardo dai poveri del mondo, ha chiamato a soffermarsi migliaia di persone. Il suo lavoro, nonostante la partenza, una volta ultimata, della pietà, lascerà una traccia molto concreta. La chiesa studio di Sant'Aspreno diventerà infatti un museo con diverse sue straordinarie opere. Intanto, avere a disposizione una chiesa barocca ancora consacrata come studio fa l'effetto di metterti nella condizione di dover in qualche modo stare in comunicazione con questa bellezza che è una spinta per andare avanti e per cercare di dare sempre il meglio. L'obiettivo chiaramente è quello della riqualificazione dello stesso ambiente. Quando Benedetto XVI decise di rinunciare al papato, Iago realizzò a Bemus Ominem spoliazione del busto di Ratzinger precedentemente scolpito e diverse sue opere rimandano la sfera del sacro. C'è sicuramente sacralità, c'è quasi, posso dire, un gesto di fede, perché quando a te arriva un grande blocco dipende da te e te ci vedi qualcosa dentro, attraverso il tuo gesto puoi riuscire a tirar fuori qualcosa e quello che tiri fuori è un po' specchio di quello che sei dentro. Memoria di sé, muscolo minerale, la venere senile sono tanti esempi di una declinazione ispirata di moderno umanesimo. Espressione di un artista pienamente calato nel suo tempo, scultore ma anche esperto comunicatore sui social, strumento prezioso per rendere il pubblico partecipe del momento creativo, un momento che si nutre sempre dell'irrisolto. Se avessi già l'idea perfetta di quello che sto facendo, anche a livello di significato concettuale, se vogliamo dire, forse non lo farei perché l'avrei risolto nella mia testa.